Proprio adesso che ci vediamo sposavo Ti avevo detto che il tipo che si uscita di sera c'hava sette tipi diversi che ti sani Tecnicamente l'ho lasciata io Oh, di fidare? L'uomo che ti sale non scopa Ma mi stai ascoltando? Ah, sì sì, ma poi torna No, non torna, non torna, io sto morendo Oh, sono sette anni che stai per morire Senti, adesso ti posso parlare dei miei sette di sani? Quali hai scelto? Cocer room, a casa mia Ma non devi bere da sola a casa? Ma quello sei te, dai, non mi ero da sola io Sai chi è tornato? Ari awake Sì No, dai, lo stesso messaggio le due del mattino E tu eri awake? Molte awake, certo, la frutta sotto casa dell'edizio è una merda Ma il servizio attorno dà paura Ma poi non era sposato Sì che hai sposato? Una che ha 17 anni Ma io mica so gelosa, eh Certo, lui si sente un po' in colpa, ma... Sto con un'altra Tu lo sai, vero? Ma io non so niente, cla Sì, lo sai T'ho sentito come ha detto Ma io non sono gelosa T'ho sentito Ma io ero rispetto a me, mica a te No, ero rispetto a me Oh, senti, ma perché siete proprio uguali voi, eh? Siete uguali insopportabili Ma voi? Tu, tu e la tua ex, ecocentri, è vagamente stronzata Perché è stronzata? Lo vedi, ha detto ex Tu lo sai che è finita, vero? Tu lo sai? Ma guarda che l'hai detto te che stavolta è finita Eh sì, ma tu devi insistere, però Devi insistere È il gioco delle parti Io te l'ho detto Sì, sì, vabbè, tu me l'hai detto, vabbè, va Senti, però Perché non insisti? Mi dispiace Però, lavoriamo sulla comprensione, eh Cerca di capire che è finita La mai capì